Ciao a tutti e benvenuti. In questo dodicesimo video del corso che abbiamo preparato per imparare a sviluppare un trading system con la Visual J-Forex, ci concentriamo su come effettuare un'ottimizzazione automatica della nostra strategia di trading. Ovviamente se vi siete persi i video precedenti in cui è stata sviluppata e programmata la strategia, mettete in pausa e andate a vederli. Trovate i link qui in alto a destra e sotto in descrizione. Se invece li avete già visti, restate, ci vediamo subito dopo la sigla. Nello scorso video abbiamo concluso la programmazione della strategia e l'abbiamo testata chiedendoci se fosse possibile ottenere risultati migliori modificandone i parametri. In questo video scopriamo com'è possibile farlo senza ogni volta modificare i valori delle variabili usando la Visual J-Forex. Ed infine vediamo com'è possibile utilizzare la J-Forex per fare una scansione automatica di tutti i parametri, ovvero un'ottimizzazione, per trovare il set che ci restituisce i risultati migliori. Apriamo quindi la Visual J-Forex e proseguiamo col lavoro. Per poter modificare i parametri in fase di backtest o quando lanciamo una strategia sul conto di trading, dobbiamo creare delle variabili specifiche all'interno dei blocchi. Ripercorrendo il trading system che abbiamo programmato, vediamo ad esempio che i 4 parametri che definiscono le bande di Bollinger, ovvero il time period, le due debiazioni standard e il tipo di media mobile, potrebbe essere interessante modificarli per verificare se esistono valori diversi da quelli standard che, utilizzati sulla nostra strategia, portano a risultati migliori. Per fare questo sostituiamo ai 4 valori assegnati ai 4 campi, 4 nuove variabili. Cancelliamo quindi tutto cliccando sulla X e procediamo per creare le variabili. Partiamo dal time period. Per creare una nuova variabile dobbiamo cliccare sul campo e poi sull'icona della finestra che si apre sulla destra. All'apertura della finestra inseriamo il nome, come ad esempio periodo bande Bollinger, lo start value, che qui possiamo mettere 20, cioè il valore di default dell'indicatore, ed infine impostiamo il campo global su true. In questo modo la variabile diventa libera e modificabile dalla Jforex senza ogni volta tornare sulla visual Jforex e creare una nuova revisione del trading system. Per finire clicchiamo su save. Ora passiamo alle altre variabili e facciamo la stessa cosa. Creiamo quindi la variabile per la deviazione standard relativa alla banda superiore e quella per la banda inferiore. Per entrambe impostiamo il valore iniziale pari a 2, cioè il valore di default dell'indicatore, sapendo che tanto poi possiamo modificarlo a nostro piacimento. Per concludere inseriamo la variabile che permette di definire il tipo di media mobile da usare e la impostiamo su SMA. Ricordiamoci sempre di mettere il campo global su true. Bene, a questo punto l'indicatore delle bande di Bollinger è libero in termini di parametri e possiamo modificarlo in base alle nostre esigenze. Un altro parametro che potrebbe aver senso rendere libero è il rapporto tra take profit e stop loss che avevamo imposto pari a 2. Questo valore è stato utilizzato nei blocchi calculation expression per il calcolo dello stop loss e che vediamo qui nella formula matematica. Per inserire una variabile libera creiamo anzitutto la nuova variabile dal pulsante nel menu in alto chiamato create new variable. Chiamiamo la variabile rapporto tpsl. Il tipo di variabile deve essere double in modo da poter usare numeri con cifre decimali dopodiché definiamo il valore iniziale pari a 2. Prima di salvare mettiamo true su global. Questa nuova variabile la vediamo comparire nell'elenco a sinistra nella sezione users variable. Per poterlo utilizzare trasciniamo la variabile all'interno dei blocchi calculation expression nella cella A3 e nella formula togliamo il 2 e scriviamo A3. In questo modo il risultato della formula, cioè lo stop loss, è variabile in funzione del valore che assegniamo alla variabile rapporto tpsl. Percorrendo il resto del trading system vediamo che non ci sono altre variabili che ha senso rendere libere, per cui l'ultima cosa che possiamo fare è impostare il campo global su false per le variabili default take profit e default stop loss. Facendo così, dato che queste variabili non vengono utilizzate, evitiamo che ci compaiono nella finestra di settaggio dei parametri della jforex. A questo punto esportiamo la strategia sia in formato java che vfs per salvare le modifiche fatte e passiamo alla jforex per verificare che tutto funzioni correttamente. Nella jforex se abbiamo ancora nell'elenco delle strategie la versione precedente eliminiamola per non fare confusione e carichiamo l'ultima revisione del trading system e una volta caricato, tasto destro del mouse e test. Impostiamo i parametri come nel video scorso, quindi lo strumento su gvpusd, il periodo sugli ultimi sei mesi ed eseguiamo il backtest usando tutti i tick ed infine clicchiamo su play. Come vedete ora ci compaiono tutte le variabili libere del trading system e possiamo modificarle come preferiamo per testare diversi settaggi della strategia. Ricordiamoci che possiamo anche modificare lo strumento finanziario ed il time frame per cui possiamo ad esempio decidere di eseguire il backtest sul time frame a 4 ore anziché a 1 ora. Stiamo attenti però che se vogliamo cambiare anche lo strumento finanziario bisogna tornare indietro e modificare anche lo strumento impostato in fase di definizione della simulazione storica, altrimenti il backtest verrebbe fatto su un certo strumento ma usando i dati storici relativi ad un altro strumento finanziario. Una volta scelti i parametri clicchiamo su eseguire e il backtest partì in automatico. Al termine la Jforex crea il solito report che possiamo caricare in a quant analyzer per vedere i risultati. A questo punto uno potrebbe dire fantastico una volta fatto il trading system posso fare varie prove modificando i vari parametri finché non trovo il set di valori migliore. È vero però bisogna considerare che si tratta di un'attività davvero costosa in termini di tempo per cui gli sviluppatori della Jforex hanno implementato una funzione nella piattaforma che automaticamente varie i parametri all'interno dei range impostati da noi e per ogni set di parametri ci restituisce un report per poterlo confrontare con tutti gli altri. Per impostare questa funzione dobbiamo andare nuovamente nella finestra tester storico ma questa volta anziché mettere la spunta su modo visuale la mettiamo su ottimizzazione. Lasciamo tutti i parametri invariati e clicchiamo sul pulsante play. La finestra che ci si apre ora è diversa dalla precedente ed infatti vediamo che a fianco del nome di ogni variabile sono presenti tre celle. Queste celle servono per impostare la prima il valore minimo da assegnare alla variabile, la terza il valore massimo e quella in mezzo il passo. Quindi se ad esempio prendiamo la variabile al rapporto tpsl possiamo impostare come valore minimo 0.5, come passo sempre 0.5 e come valore massimo 2. In questo modo l'ottimizzatore eseguirà 4 backtest dove in ognuno assegnerà questa variabile un valore diverso cioè 0.5, 1, 1.5 e 2. Proviamo quindi ora a settare i vari parametri liberi della nostra strategia ricordandoci ovviamente che più soluzioni gli chiediamo di testare e più tempo impiegherà ad eseguire l'ottimizzazione. Ad esempio facciamo variare le due deviazioni standard da 0.5 a 2.5 con passo 0.5, poi il periodo delle bande di Bollinger da 12 a 24 con passo 6 e come tipologia di media mobile impostiamo sia la media mobile semplice che quella esponenziale cioè sma e ema. In basso vediamo il numero totale di combinazioni che è pari a 600 il che significa che la piattaforma eseguirà 600 backtest tutti diversi tra di loro facendo variare i vari parametri secondo i valori che abbiamo impostato. Clicchiamo infine su ok per far partire l'ottimizzazione e vediamo che la jforest comincia a lavorare eseguendo tutti i backtest sul periodo storico selezionato. Una volta conclusa l'ottimizzazione posso ordinare i vari backtest in funzione del profitto totale, del numero di trade o del profit factor e una volta scelto quale voglio analizzare posso cliccarci sopra due volte per visualizzare il report che poi posso caricare nella quant analyzer. Oppure posso selezionare tutte le righe che voglio verificare, cliccare col pulsante destro del mouse e selezionare save report. Scelgo quindi la cartella in cui salvare i report e poi passo la quant analyzer per caricarli tutti e confrontarli tra di loro. In questo modo posso facilmente individuare qual è il set più profittevole o che mi restituisce l'equity più lineare e individuare quali sono le variabili più influenti e che quindi impattano di più sui risultati della strategia. Ora come ultima cosa, ipotizzando di aver scelto il set per noi migliore tra quelli testati, decidiamo di utilizzarlo in un conto di trading demo o reale lanciando la strategia. Per farlo torniamo nella finestra strategie della Jforex, selezioniamo il trading system da lanciare e in alto selezioniamo o local run o remote run. La differenza tra i due è molto semplice. Se impostiamo local run il trading system verrà eseguito sul nostro computer, il che significa che finché il pc è in funzione il trading system lavora, ma non appena lo spegniamo l'esecuzione della strategia si interrompe e quindi il trading system si spegne. Con remote run invece il trading system viene eseguito sui server del broker, ovvero Ducascopy, per cui non dobbiamo più preoccuparci di mantenere sempre il computer acceso. Ovviamente è inutile che vi sottolinei i vantaggi che potete avere selezionando remote run. Considerate però che il broker, al momento della registrazione di questo video, concede al massimo 5 slot disponibili per conto di trading, per cui potete al massimo lanciare 5 strategie sui server di Ducascopy. Selezioniamo allora remote run e clicchiamo sul pulsante play subito a fianco. La finestra che si apre serve per impostare i valori delle variabili libere, per cui impostiamo quegli scelti sulla base dell'ottimizzazione fatta e clicchiamo su eseguire. La strategia ora verrà lanciata sui server Ducascopy e possiamo verificare lo stato della strategia nella colonna status. Vediamo infatti che da stopped è passata a initializing ed infine una volta avviata la strategia viene visualizzata la scritta running. Una volta che vediamo running significa che la strategia operativa è che può aprire gli ordini quando vengono soddisfatte le condizioni relative ai setup che abbiamo impostato. Bene ragazzi, anche questo video è giunto al termine. Abbiamo imparato come rendere modificabili le variabili in fase di test e come eseguire un'ottimizzazione con la Jforex per la ricerca del set di parametri migliore ed infine abbiamo visto anche come attivare una strategia su un conto di trading. Con questo mini tutorial dedicato alla programmazione di un trading system dovreste aver acquisito tutte le conoscenze necessarie per sviluppare una vostra strategia automatica in autonomia. Ma se avete ancora dei dubbi o bisogno di chiarimenti scriveteci un commento qui sotto o alla mail che trovate nel canale. Ovviamente sulla Visual Jforex c'è ancora molto da dire per cui se non volete perdervi i prossimi video iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanellina per ricevere le notifiche non appena li pubblicheremo. Se il video vi è piaciuto e l'avete trovato utile come sempre vi chiedo di mettere un like qui sotto per farcelo sapere e con questo vi ringrazio per essere rimasti fino alla fine e ci vediamo al prossimo video.